mancano tre giri a termine della prima gara della giornata qui a Brescia in Castello ecco attendiamo il quinto passaggio degli atleti è stato un tentativo di fuga è stato ripreso dopo è andato in fuga Roberto Marinoni ecco ancora Roberto Marinoni prosegue la fuga di Roberto Marinoni Borgo Satollo Siclin ecco il gruppo semplore ha portato erano in tre adesso sono in sette otto guardiamo gli immediati inseguitori hanno quasi due minuti è spaccato in tanti tronconi Roberto Marinoni grande atleta completo un attista scalatore velocista una setta completo ecco questo è lo speaker ufficiale che sta parlando mancano due giri a termine mancano due giri a termine ecco data di Giordano finbile di Gavardo vedo da molto lontano ancora grazie a tutti